Dieci anni da pecora e sono dieci anni da pecora Non ho mai tradito una donna, vabbè, quello che non la fa Ma queste cose non si dicono, ma poi i tradimenti importanti sono quelli verso i valori, verso i principi Mi sembra che ha perso Verso gli impegni, verso gli amici Ecco, non ho mai tradito un amico Una donna direi di sì La risposta sì, direi Silvio Ma poi non si dice Ma un uomo come un timbro timbra Allora senti Timbra, in che senso? Come timbra? No, quando fa... Timbra 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 Timbra